Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere come guadagnare gemme per Clash of Clans Con diciamo dei trucchetti Allora la prima cosa da fare è cercare Up Bounty Sul vostro motore Cioè se avete iPhone sull'Apple Store Se avete Android su Play Store Allora in questo caso io ho Android Allora aspettiamo un attimo che si installa Pesa poco Allora dai carica Non ci vorrà niente Sarà comodissimo Cioè facilissimo per fare il gem Perché basta tu lo scarichi Lo apri Ah Facciamo prima start Poi Lo gain Poi allora ti dice Ad esempio qua ci sta per il solitario ti dà più a 9 punti Tu fai così Fai la internet Comunque Fai installa Ovviamente scegliete voi Cioè quello vi dà varie opzioni Tu scegli quale E te lo scarica E te lo scarichi Quale app Quale cosa Poi Alcune app richiedono Mi pare Alcune richiedono Di completare tipo un tutorial Una cosa Altre invece Lo scaricate App Bounty Riconosce che l'è scaricata E poi la puoi eliminare tranquillamente Poi ovviamente Se vi piace Ve lo tenete Ecco apri Fai solitario E mi sa Che dovrebbe averlo già riconosciuto Vabbè Comunque Uno aspetta che riconosce Poi la potete eliminare tranquillamente Già l'ho detto Però ve lo ridico Una volta accumulati I crediti Potete comprare Gemme per Crash of Clans O comunque Anche per altre cose Poi Vedete stesso voi Ma il po' che si carica Non so perché Mi sciolare Oggi è così lento Oh Vabbè Comunque Questa Ah forse voglio fare Patti Ecco Stava un problema Anzi Stava avendo problemi Con il cellulare Comunque Vabbè Basta che vi iscrivete Un versino Facendo un like E soprattutto Vi iscrivete Alla pagina facebook Lomeno 007 Così guadagnate Così guadagnio io E guadagnate voi Ogni volta che potrò Darvelo Vedo me ne do uno Di codice Alla prossima Se mi fa concludere L'app Che questa app Non è un po' Difettosa Perchè Beleza Beh Farò così Grazie.